appunto che abbiamo deciso di dedicare proprio all'Erasmus è per darvi tutte le informazioni per farvi approfondire questa iniziativa che è forse tra le migliori cose che abbia fatto l'Europa da quando si è unita e cioè questo scambio di Erasmus. Sapete già tutti che cos'è perché anche se non lo avete fatto voi magari lo hanno fatto dei vostri amici, se ne parla magari i vostri fratelli più grandi quindi diciamo mi sembra inutile ricordare per l'ennesima volta cosa si è Erasmus. Quello che a noi ci interessa è sponsorizzarlo al massimo. Abbiamo qui in questa accademia tra le poche in Italia perché le accademie grandi in genere trascura un po' questa possibilità di Erasmus. Mentre noi qui abbiamo proprio un ufficio predisposto, abbiamo la dottoressa Patrizia Di Marco che ormai è espertissima perché sono tanti anni che si occupa proprio della parte amministrativa di Erasmus. Abbiamo moltissime partnership con moltissime istituzioni in tutta Europa e quindi ci teniamo a incrementare sempre di più a maggior ragione in quest'anno che finalmente si può ripartire dopo la clausura della pandemia. Ci teniamo in modo particolare appunto a stimolarvi, a stimolare sia gli studenti sia i colleghi docenti a partire, a muoversi perché l'Erasmus è veramente un'occasione unica di entrare in contatto con altri ragazzi, con altri studenti, con altre istituzioni, persino di innamorarsi. Abbiamo uno studente dell'Accademia che è partito in Erasmus per la Francia perché si è innamorato. Quindi vedete come è ampia, diciamo, la gamma delle possibilità che offre l'Erasmus. Quindi anche chi è in cerca di fidanzata o fidanzata può partire e magari lo trova in Erasmus. Grazie. Ecco e poi soprattutto io vi parlo perché comunque anche io stessa ho girato abbastanza perché si poteva appunto a parte degli anni della pandemia e vi posso assicurare che è molto interessante perché le altre istituzioni europee dedicate alle arti visive sono per certi versi differenti dalla nostra, quindi la possibilità di conoscere altri tipi di laboratori, altre attrezzature, altre metodologie anche di apprendimento, non so, della grafica, della scenografia, della cultura. Insomma sono degli arricchimenti che noi consigliamo e caldeggiamo fortemente. Questo diciamo in linea di massima. Questa mattina dette queste poche parole io poi lascio la parola alla dottoressa Di Marco che vi illustrerà la parte della procedura formale insomma per candidarsi per ottenere questa borsa di studio e vi darà anche alcuni dettagli tipo il fatto che c'è la borsa di studio europea più c'è anche un cofinanziamento da parte della nostra istituzione, anche questa è una cosa diciamo di cui dovete tenere conto perché non tutte le altre accademie danno questo cofinanziamento che è importante perché come voi potete potete immaginare insomma i soldi non sono molti quindi avere un cofinanziamento è qualcosa che aiuta veramente e poi volevamo anche lasciare la parola a un po' ai ragazzi che già sono partiti in Erasmus vedo lì che non mi ricordo il tuo nome non mi ricordo che sei partito insomma a Valencia no? Sì a Valencia, comunque Valentino Valentino ecco perdonami e quindi poi c'è anche un'altra studentessa c'è anche un'altra studentessa c'è anche un'altra studentessa in Spagna, Marco perfetto e poi naturalmente fatte tutte queste premesse apriamo le vostre domande perché immagino che insomma vogliate avere delle lucidazioni e quindi questa giornata è fatta apposta proprio per discutere e dibattere insieme su quali possono essere le domande, le perplessità, i dubbi insomma e noi siamo qui a rispondere volentieri quindi passo la parola alla dottoressa Di Marco che ci racconterà un po' nel dettaglio di tutto il procedimento che mi metto qui che non voglio più Allora grazie Barbara, buongiorno a tutti, io ringrazio tutti i presenti auspico molto che questa giornata che interviene dopo tre anni di pausa perché l'ultimo Erasmus Day l'abbiamo fatto in febbraio 2019 quindi auspico che questo diciamo sia un ritrovarsi e un ricominciare con le attività Erasmus come nella fase prepandemica quando c'era un bel movimento considerate che l'Accademia di L'Aquila era ed è ancora comunque prima della pandemia aveva dei numeri di mobilità molto alti in relazione alla utenza studentesca, cioè la percentuale di persone che si spostavano era elevatissima in relazione al numero complessivo degli studenti infatti eravamo tra le accademie che ricevevano finanziamenti più alti a livello di Palermo per esempio di un'accademia come Palermo di accademie molto alte faccio una premessa, vi chiedo scusa se resto seduta ma ho qualche problemino di salute quindi me ne sto buona qui, perdonatemi allora come diceva la professoressa Barbara Brudi Erasmus è un'opportunità, è un'opportunità che cambia veramente le prospettive io amo molto questa diciamo formula Changing Lives, Opening Minds perché in particolare gli studenti che tornano da un'esperienza Erasmus tornano totalmente trasformati ed è molto bello raccogliere le loro testimonianze ma proprio sperimentare il loro cambiamento proprio verificare e toccare con mano il loro cambiamento rispetto a quando appunto si introducono timidamente nei nostri uffici prima di partire stanno lì timorosi che farò, che non farò, che ne sarà di me quando tornano sono totalmente diversi, totalmente cambiati quindi è un'esperienza che per gli studenti è estremamente formativa dal punto di vista personale dal punto di vista accademico perché poi coloro che vanno fuori per studiare hanno l'opportunità di confrontarsi con dei programmi didattici che sono diversi ma perché secondo me la diversità e la complementarità fa crescere è molto importante che loro effettivamente si confrontino con dei programmi di studio che sono diversi mi soffermo un po' sulla mobilità degli studenti per studio, considerate che la maggior parte dei nostri partner sono delle facoltà di belle arti all'interno dell'università perché la formula accademia non esiste tanto in Europa, esistono piuttosto le facoltà di belle arti inglobate nell'università per cui diciamo si riesce a percorrere dei segmenti di studio che sono anche di alto livello che dire, prima di addentrarmi nelle possibilità che offre Erasmus vorrei ringraziare gli ex studenti Erasmus che sono venuti e a cui daremo la parola perché rappresentino un po' la loro esperienza gli studenti Erasmus in coming, vedo qualche viso appunto e voglio ringraziare i ragazzi di Erasmus, non so quanti di voi conoscano l'associazione SN Italia SN Italia è un network che in realtà collega tutta Europa, connette tutta Europa ed è costituita da ex studenti Erasmus che si consorsiano in associazione di volontariato per aiutare gli studenti Erasmus che necessitano, vogliano intraprendere questa esperienza quindi poi loro si presenteranno, vi presenteranno anche l'associazione vedo con molto piacere anche dei docenti, sintetizzeremo anche le possibilità che a loro offre diciamo il programma Erasmus io diciamo preferisco che la sessione risulti un po' interattiva quindi diciamo darò delle informazioni di massima dopo di che vorrei che ci appunto, che parlassero anche altre persone le opportunità al momento offerte dal programma Erasmus sono due per gli studenti, la mobilità per motivi di studio e la mobilità per tirocini o trainership e le opportunità che sono offerte ai docenti varimenti sono due cioè recarsi in un'istituzione estera per attività di docenza quindi portare un programma di docenza da concordare con l'istituzione e un'attività di formazione che può dispiegarsi presso un'istituzione partner ma anche presso organizzazioni, studi grafici piuttosto che teatri piuttosto che biblioteche, insomma c'è una gamma di possibilità molto ampia la mobilità degli studenti per studio è una mobilità che va programmata con un po' di anticipo infatti le nostre call, i nostri bandi sono sempre abbastanza anticipati rispetto al periodo della mobilità lo studente presceglie l'istituzione presso la quale vuole recarsi e la presceglie guardando un elenco che è riportato nel nostro bando adesso Paolo poi ci farà vedere dove potete reperire i bandi dell'ultima call ma anche i precedenti quindi c'è un elenco di istituzioni vi andate a guardare i siti scegliete quella che vi è più congeniale anche in base alla destinazione solitamente la Spagna è il paese più gettonato poi si predispone un piano degli studi che viene concordato con l'istituzione ospitante e con noi e si parte, si può partire un altro passaggio propedeutico è candidarsi presso l'istituzione ospitante quindi ci si candida presso di noi c'è un colloquio idoneativo e poi ci si candida presso l'istituzione prescelta poi vi faremo vedere anche gli importi delle borse di mobilità intanto Paolo ci fa vedere dove trovate i bandi questa è la pagina ecco, questa è l'ultima call che abbiamo lanciato proprio ieri è la call 2023 per la quale però dobbiamo ancora candidarci perché per Erasmus si lavora in anticipo ma se voi voleste proporvi potreste agganciarvi alla call precedente la 2022-23 perché è ancora aperta adesso le call sono biennali non più annuali quindi c'è la possibilità di prescegliere anche la call alla quale accedere per la 2021 e la 2022 che sono ancora aperte abbiamo già i finanziamenti quindi abbiamo i soldi e possiamo già finanziarvi per la call 2023 che stiamo lanciando adesso invece dobbiamo ancora attivare la procedura di candidatura la seconda azione è la mobilità per tirocinio lo studente può candidarsi per andare all'estero in una azienda, in uno studio di artisti in una, aiutami Barbara, in un museo sì, per esempio abbiamo una ragazza che adesso è addirittura a Reykjavik in Islanda è stata bravissima lei è presso una specie di, diciamo, galleria d'arte ma che fa anche, che ha anche un negozio, diciamo, di articoli per la vintura quindi vende e però organizza anche eventi, mostri, eccetera effettivamente ha scritto sta organizzando un evento espositivo ecco, e quindi, diciamo, lei non so come abbia trovato questo contatto comunque è appunto lì e sta lavorando in una cosa che è vera che è realtà, non è appunto soltanto un luogo di formazione un'altra accademia o un'altra scuola d'arte ma è veramente un pozzo di lavoro quindi, lei poi abbiamo una ragazza che è stata ha prolungato anche a Berlino adesso è in una fonderia a Madrid ah, allora ce n'è una a Berlino che sta nello studio di un artista il quale appunto ha bisogno di assistenti quindi anche lei è un artista italiano però ha trapiantato a Berlino quindi, neanche a Berlino proprio ma credo un po' fuori Berlino quindi, insomma, diciamo la varietà è notevole di possibilità certo, un po' sta anche a voi di trovare delle occasioni, no? magari avete sentito parlare in un artista, in uno spazio in uno spazio espositivo, eccetera così, basta scrivere e dire io mi vorrei candidare avete bisogno di me e quindi, insomma poi noi ovviamente abbiamo la procedura per il contatto, per la partnership per fare in modo che voi abbiate accesso alla corsa di studio e potete fare un periodo appunto in luoghi che non sono specificamente delle istituzioni di formazione artistica ecco considerate anche che diciamo queste organizzazioni aziende come vogliamo chiamarle studi anche semplicemente di artisti sono molto interessati a ricevere studenti perché per loro è un po' a ricevere forza anche lavoro gratuitamente in quanto vi sosteniamo noi ovvero vi sostiene Erasmus con la borsa di mobilità c'è anche una copertura assicurativa quindi in realtà l'azienda assume come dire unità di personale a costo zero e qual è il contraltare? il contraltare è che lo studente fa una vera e propria esperienza lavorativa considerate che molti ragazzi che sono partiti per fare il turcino presso aziende poi sono stati assunti o comunque hanno trovato lavoro all'estero proprio grazie a questa esperienza sono molti ragazzi che sono andati in Erasmus e poi sono rimasti lì o sono tornati lì a lavorare e comunque anche un'esperienza che può essere inserita nel curriculum cioè aver lavorato per fare un tirocinio appunto nello studio di un artista è comunque qualcosa che arricchisce il vostro curriculum considerate anche non so quanti di voi conoscono abbiano sentito parlare di diploma supplement probabilmente pochi di voi comunque al termine del vostro percorso di studi a voi viene rilasciato oltre al normale diploma il diploma supplement che è un come appunto si definisce come insito in definizione un supplemento al diploma che viene rilasciato in lingua italiana e in lingua inglese e che dà conto di tutte le vostre esperienze in particolare quelle Erasmus per cui qualora voi voleste spendere il vostro curriculum in Italia e all'estero e o all'estero potreste farlo appunto documentando con il diploma supplement quello che avete fatto se vi recate all'estero per motivi di studio nel diploma supplement viene inserito mi pare anche il giusto Nadia viene inserito anche il percorso diciamo didattico che avete svolto quindi tutti gli esami che avete fatto anche all'estero e questo è ovviamente un valore aggiunto perché è un modo di presentare le vostre esperienze considerate che l'esperienza Erasmus è un'esperienza che sul curriculum pesa abbastanza cioè viene considerata molto positivamente per quanto riguarda le aziende nel bando diciamo per tirocino trovate alla fine un elenco di aziende con le quali siamo già in contatto perché abbiamo già mandato degli studenti a sperimentare le esperienze ma questo elenco non è limitativo non è preclusivo nel senso che come diceva la professoressa Drudi ciascuno di voi può o con l'ausilio dei docenti oppure mettersi su internet cercare l'azienda che ritiene essere congeniale ci dà i contatti noi scriviamo e in questo modo si archiva la collaborazione poi diciamo Paolo possiamo far vedere i contributori unitari per gli studenti per quanto riguarda le borse di mobilità al momento sto parlando della col ancora 22-23 che però si dispiega fino al al 31 luglio 2024 perché in realtà è una col che si dispiega per due anni quindi può inglobare anche la mobilità per studio dell'anno prossimo le borse comunitari sono queste c'è una divisione per paesi perché si ritiene che il costo della vita sia diversificato quello in alto sono diciamo le borse per studio poi sotto è riportato in dettaglio il top up per chi va per tirocino ci sono 150 euro in più al mese poi è previsto un top up anche per chi versi in condizioni economiche svantaggiose da documentare con l'ISEE e quindi diciamo potete guardarvi tranquillamente questa cosa che è riportata anche sul sul bando per quanto riguarda i docenti le opportunità sono recarsi all'estero come dicevo per un'attività di docenza si concorda si propone all'istituzione partner prescelta il periodo e l'ipotetico argomento di docenza poi la docenza viene messa appunto e si porta diciamo alla università ospitante le competenze che sono proprie diciamo dell'accademia cioè si può portare appunto all'estero quello che viene svolto qui quelle che sono le come dire le nostre punte di diamante in passato sono state da queste esperienze sono sortite diciamo delle addirittura delle mostre delle esposizioni delle cose molto interessanti ne sono fatta una con Valencia che riguardava la grafica al castello cinquecentesco dell'Aquila una mostra bilaterale quindi fatta sia qui sia a Valencia cioè sono diciamo contatti dai quali possono sortire delle delle esperienze anche di interdisciplinarità perché poi si mettono insieme le due diciamo le diverse competenze professionali didattiche e anche artistiche perché no perché poi si riporta siccome siamo un'accademia nella didattica si riportano anche le competenze artistiche poi c'è la possibilità di recarsi all'estero anche per formazione come dicevo la formazione può essere concepita presso un istituto di destinazione o un istituto gemellato dove si sapesse già che quell'istituto ha come dire delle delle competenze particolari delle eccellenze che possono essere riportate qui perché poi ovviamente fare formazione significa ritornare qui e diciamo riportare quelle competenze nella nella didattica nella didattica che viene svolta qui ma si può ci si può arretare anche presso musei presso diciamo studi presso organizzazioni insomma la professoressa Trudini ha svolta effettivamente molte di queste attività io sono stata a Rotterdam al Foto Museum che appunto non è un'istituzione di formazione ma è un'accademia non è un'università ma è proprio un museo specifico dedicato alla fotografia in particolare alla fotografia olandese ci hanno messo in piedi questa struttura meravigliosa alla quale hanno un sacco di soldi e sono stata lì e loro veramente una giornata intera il direttore del museo mi ha accompagnato in una visita guidata a tutte le strutture a tutti i laboratori ai magazzini dove insomma le storage dove conservano queste lastre addirittura ci hanno lastre del tanto ottocento insomma in una situazione diciamo veramente di eccellenza e quindi per dire quella è stata un'esperienza importante visto che io insegno storia della fotografia per me diciamo poi loro hanno anche uno spazio espositivo insomma mi hanno raccontato moltissime cose quindi è stata un'esperienza effettivamente molto importante per me diciamo come docente e per quello che io posso trasmettere agli studenti poi essendo io una storica nel senso tradizionale del termine sono andata anche a l'Inashat che è l'Institut Nazionale di Storia dell'Arte di Parigi dove c'erano delle carte insomma una corrispondenza privata nel grado storico dell'arte che si chiamava L'Inashat e sul quale io dovevo scrivere un articolo per una rivista di studio insomma universitaria e quindi ho avuto un finanziamento ho preso accordi con questo insomma diciamo con la parte degli articoli privati che era abbastanza noiosa peraltro perché solo certi orari insomma così comunque ho avuto a disposizione il materiale ho potuto insomma scrivere il mio articolo arricchendolo che mi era indispensabile e questo appunto anche sempre grazie al finanziamento di Erasmus quindi diciamo che Erasmus per i docenti può abbracciare tutta una serie anche di opportunità che non sono strettamente legate proprio alla didattica ma che poi aiutano insomma a come dire rendere agli studenti una didattica più ricca più informata più approfondita più seria e non semplicemente soprattutto io posso parlare per la mia esperienza di docente di materie teoriche quindi è chiaro che insomma le cose sono un po' differenti per chi invece fa materie artistiche insomma però ecco questo per dire che insomma ci possono anche essere contatti per dire con colleghi di materie artistiche andare a fare così diciamo un laboratorio insieme un workshop insieme ad un altro collega artista cioè ci sono veramente le possibilità e le sfaccettature di questi piccoli finanziamenti sono veramente molto emici Paolo se possiamo mostrare i finanziamenti destinati ai docenti questa mobilità docenti staff e ovviamente tutto questo riguarda anche il personale amministrativo che credo arrivare e quindi noi siamo ben felici se le nostre collaboratrici amministrative hanno voglia di anche loro perché comunque diciamo anche per la parte amministrativa è interessante insomma ci possono essere appunto scambi e poi sono sempre le norme di formazione sì esatto è interessante queste sono le tariffe giornaliere anche qui divise per fasce di paesi e sopra ci sono le fasce bilometriche perché c'è un rimborso forfettario per il viaggio solitamente si ricade nella fascia di 999 km 275 euro il rimborso forfettario per il viaggio della mobilità per gli amministrativi ha detto la professoressa Dudi quindi sollecitiamo anche loro e l'ultima azione dopo di che cerco appunto di lasciare spazio agli altri l'ultima opportunità che esiste per la mobilità docenti ve la vorrei proprio prospettare perché anche per questo abbiamo avuto delle esperienze in passato molto interessanti è che ciascun docente della nostra accademia può proporre un artista una unità di personale di impresa una tutolare di azienda che venga qui a tenere una lezione all'interno diciamo del vostro inturaggio didattico diciamo così in passato il professor Battiloro ha fatto venire per due anni consecutivi degli esperti del metodo ITER dell'atelier contemporanei Parigi ci sono stati dei seminari che gli studenti hanno apprezzato moltissimo e che alcuni ragazzi hanno poi potuto spendere per impiegarsi diciamo professionalmente quindi il docente nel bando docenti troverete anche il modulo diciamo deputato destinato può se conosce un artista particolarmente non lo so rappresentativo di quello che ritiene possa essere utile per la propria docenza può invitarlo l'artista viene remunerato con la borsa Erasmus è un po' come se fosse una mobilità docenti al contrario quindi viene pagato da noi da noi cioè da noi come accademia ma in realtà con i fondi Erasmus e quindi diciamo è abbastanza accattivante come opportunità anche questa ed è la terza azione diciamo che riguardi i docenti a questo punto io mi taccio perché penso di aver parlato anche tanto e non lo so vorrei intanto che si presentassero i ragazzi di Apulano se poi facciamo parlare i nostri studenti volete venire qua volete venire qua volete sedere di nuovo presentate voi presentate l'attività dell'associazione allora ragazzi come aveva già citato la professoressa di Marco prima noi siamo di un'associazione chiamata Aquilasmus slash SN L'Aquila questa associazione è nata principalmente da ex Erasmus che sono tornati all'Erasmus e vogliono rivivere la stessa identica esperienza all'Aquila senza muoversi a casa ovviamente rivivere nel senso di avere a che fare con l'ambiente internazionale usare il volontariato per conoscere nuove culture nuove lingue fare nuove esperienze trovare la ragazza come ha detto la professoressa prima in realtà era nata con questa idea naturalmente è stata fondata nel 2007 la sezione era questa è stata fondata nel 2007 e due anni dopo ci siamo uniti a SN che è il network che praticamente l'idea è la base che però il network è nato nel 1999 mi sembra sì e ci siamo uniti al network così che da garantire gli studenti molti più servizi insomma cosa ci occupiamo noi di solito ovviamente ho una presentazione se volete che vi faccio vedere la presentazione facciamo la solita presentazione della conferenza ovvero no guarda vai a braccio guarda a braccio le cose le principali anche per i nostri secondo voi che cosa ci possiamo occupare noi in coming che magari possono avere bisogno ok secondo voi che cosa ci dovremmo occupare noi a parte delle feste beh ovviamente dice Erasmus la prima cosa che ti viene in mente è la festa in realtà infatti c'è una studentessa turca che è qui che mi ha detto ah ma i miei amici che sono andati a Firenze e Milano stanno sempre a fare party andate qua ovviamente parti qua insomma si può certamente dire è un pochino più difficile organizzare infatti mi ero detto ma qui va freddo come fa? se esci fuori a Firenze per esempio hai ancora qui 15 gradi sei portabile esci fuori all'acqua che era sempre a 2 gradi comunque ci sono c'è ancora il giovedì universitario cioè ci sono ancora delle serate in passato ricordo organizzavano anche delle giri ad esempio sulla neve piuttosto che ma voi avete una mailing list dei nostri studenti dei nostri studenti in coming comunque in caso organizzaste qualcosa dovremmo averla prima abbiamo sperato effettivamente un periodo di transizione in qualche cosa dobbiamo ancora capire se c'è la prima di nuovo noi comunque comunichiamo diciamo diamo i nostri contatti a tutti gli studenti in coming che appunto tramite facebook tramite anche l'ufficio relazioni internazionali e poi diciamo oltre il 15 o Andrea ad organizzare feste noi li supportiamo nella ricerca della casa ad esempio che è comunque la parte più diciamo che è l'ostacolo più grande alla mobilità quest'anno è stato incredibile è stata una cosa veramente impossibile e quindi gli aiutiamo nella ricerca della casa e anche se hanno bisogno di aiuto nel svolgere le pratiche burocratiche in qualsiasi cosa e poi ovviamente organizziamo anche eventi che non si limitano soltanto agli eventi alle feste appunto ma anche viaggi ad esempio non solo diciamo noi sezione dell'Aquila ma in collaborazione con le altre sezioni in Italia e come appunto diceva Andrea Aquilasmus è una delle 53 sezioni di ESN italiane che appunto tutte insieme vanno a creare ESN Italia e poi ESN Italia con le altre associazioni nazionali degli altri stati europei va a creare ESN internazionale e quindi c'è un grande network che è stato creato apposta per supportare gli studenti di Erasmus e per favorire e anche non solo per promuovere come stiamo facendo adesso la mobilità tra gli studenti locali appunto per invogliarli a partire e dare tutte le informazioni necessarie perché comunque chiedo scusa per gli occorsi ricordo che in passato questa cosa un po' non mi va fatta se lo studente italiano volesse che so avvalersi del net della rete per cercare per reperire un alloggio ad esempio potrebbe potrebbe usare il vostro canale o no? certo dipende perché naturalmente della ricerca della casa per esempio noi ci occupiamo dell'uomo dell'opo noi per esempio a Senerabio ci occupiamo dell'opo per cercare una casa lì per esempio se uno studente vuole partire per Erasmus e va a Helsinki per cercare per cercare lì deve contattare la sezione locale quasi tutte le città grandi all'estero hanno comunque una sezione quindi basta che contattino di loro e hanno quasi sempre questo servizio per ricercare di caso ovviamente c'è chi chi lo fa in maniera più attiva e chi in maniera meno attiva però ovviamente con i problemi con lo scompenso che c'è stato ultimamente tra domanda e offerta di case è sempre più difficile però ad esempio noi abbiamo un database con tutti i contatti dei proprietari di casa disposti ad affittare non solo a studenti internazionali ma anche per periodi più corti più brevi di un anno perché comunque è questo l'ostacolo cioè il fatto che magari l'Erasmus la mobilità dura non due semestri ma dura un semestre soltanto e quindi è lì che è difficile però noi tramite i nostri contatti tramite magari l'università l'ufficio di relazioni internazionali cerchiamo sempre di aiutare al meglio Allora io mi sono chiamata a questo se noi facciamo vedere comunque una mailing list dei nostri studenti in coming di modo che qualunque iniziativa voi dovreste mettere in cantiere magari la veicolate a questi ragazzi ok assolutamente poi se c'è qualche domanda qualcuno vuole sì ragazzi avete sia potenziali outgoing che incoming avete qualcosa da chiedere voi ragazzi io c'è una domanda perché hanno fatto invece già il programma c'è la possibilità di fare anche una train c'è la possibilità di fare anche una train sì qui ti rispondo io perché sì sì certo c'è la possibilità di fare sia studio che train oppure più attività di studio o più attività di train purché non si superino i 12 mesi nel segmento di studi che si sta percorrendo mi esprimo con un esempio tu quanti mesi hai fatto lì a Valencia sei mesi sei nel triennio allora nel triennio di studio ti puoi spendere 12 mesi di mobilità altri 12 nel biennio ovviamente per il quinquennio 12 più 12 diventano 24 quindi per chi fosse al quinquennio di restauro avrebbe 24 mesi ma torniamo al tuo esempio hai 12 mesi sei li hai già spesi i restanti sei mesi li puoi spendere o per un'altra esperienza di studio o per un'esperienza di train fin anche due da tre mesi per esempio quindi la risposta è sì tra l'altro approfitto per dirvi che siccome abbiamo cioè la commissione europea con la nuova fase di Erasmus ha viennalizzato le call che cosa succede? succede che voi potete candidarvi quasi a gettito continuo in particolare per il trainership perché mentre la mobilità per studio è legata ai semestri accademici quindi lo studente non può partire quando gli pare ma deve partire quando si dispiega il semestre o l'anno accademico nell'istituto di destinazione per il trainership questo limite non esiste alcuni hanno fatto trainership anche nei mesi estivi perché se l'azienda ad esempio in agosto non è chiusa e il trainership si può spendere anche nei mesi estivi giugno luglio agosto la particolarità del trainership è che diciamo rispetto allo studio non dà crediti ovvero può dare quattro crediti formativi da imputare nell'area libera scelta all'interno del piano di studi dello studente però è chiaro che nel periodo di trainership lo studente congela un po' la sua attività didattica cioè non fa attività non segue i corsi non segue le lezioni e non sostiene gli esami questo va un po' tenuto presente quando si va a programmare il proprio periodo di training molti studenti devo dire che quando vanno fuori per fare Erasmus per studio si guardano intorno e si cercano un'azienda nella quale poter poi andare a fare tirocino se il posto è rimasto particolarmente simpatico e Valencia mi pare che lo sia come luogo e quindi dicevo questo potete candidarvi diciamo soprattutto per il trainership con continuità quindi chi fosse interessato può scaricarsi la candidatura dal sito può venire nel nostro ufficio Erasmus ed avere tutte le informazioni del caso vi possiamo mandare il form di candidatura per posta elettronica in file di Word così lo potete modificare e ce lo fate riavere volevate dirci altro naturalmente stiamo concentrandoci più che altro sulla pressione di informi ma anche quelli che devono partire per esempio per l'estero e hanno problemi con la documentazione ad esempio noi abbiamo anche servizi per esempio di aiutare nella compilazione naturalmente poi domande al limite dell'umano perché qualche volta mi ha dato delle domande che non avevano messo una risposta se non dal parte del posto nel senso ma dove mi indirizzeresti e cose del genere se hai problemi del tipo ho il problema di un top credit non riesco a raggiungere i top credit di come faccio eccetera li possiamo aiutare oppure come si compila la scelta dei cosi li possiamo aiutare però ragazzi è il limite dell'umano che cosa facciamo inoltre facciamo un sacco di attività qua all'Aquira per il concetto sia i studenti in Coving che in generale chiunque voglia partecipare su varie come si dice cause rispettiamo i principi su cui è nato il network internazionale appunto diciamo copriamo la sostenibilità la cultura siete ad esempio in contatto ricordo un anno forse fatto un anno ci furono dei contatti anche con il teatro stabile per gli spettacoli questa cosa non si è più ripetuta nel senso avere delle agevolazioni per gli studenti oppure ad esempio ricordo che in passato con l'Erasmus Card si avevano degli sconti per alcuni esercizi commerciali pub barrocchieri insomma cose che non esistono ancora queste sì ovviamente scusate ma voi avete una sede proprio fisica allora la nostra sede legale diciamo è l'ufficio relazione internazionale a Palazzo Camponeschi però noi ci uniamo a spazio practice la sede reale diciamo dove facciamo le riunioni dove abbiamo il nostro materiale sì perché anche questo magari può essere interessante per gli studenti che sono qui in cani certo se hanno bisogno di qualcosa magari passando in città sì facciamo sempre un fist hour due volte a settimana in caso facciamo sempre un fist hour in cui ci mettiamo là e chiunque vedeva passare che ha domande o sul bando o magari perché vuole diventare volontario come noi o su altro facciamo il senso lo facciamo e questo può essere anche interessante ecco se sì lasciate questi recapiti anche per esempio non so se avete dei recapiti sui social come si chiamano i paesi sui social dei indirizzi poi non è un problema potremmo creare proprio uno spazio all'interno della nostra pagina però ci dovete dare tutti i vostri riferimenti non so quello che avete a noi lo inseriamo di bella vista poi naturalmente l'ultima cosa perché per esempio uno studente che è tornato per esempio perché mi ha fatto l'esempio che ci sono molti studenti che sono tornati dall'erasmus che hanno già dato insomma perché uno studente erasmus dovrebbe unirsi per esempio a noi come volontario per esempio o comunque aiutare cercare di aiutare comunque gli altri studenti numero uno come avete ben visto in erasmus ma anche chi non parte dell'erasmus avere a che fare con studenti internazionali aiuta un casino la fluenza del tuo discorso e sei molto più sei molto meno timido molto più cosa inoltre aiuta tantissimo l'inglese vi giuro raga prima di diventare volontario tagliere lo chiamavo piece of wood in inglese capite che è un po' tipo la cosa più profonda in assoluto nel senso il livello di inglese era abbastanza carente ora riesco a fare un discorso sia in italiano che in inglese mi sta cercando quelle quali altre lingue quindi come uno per le lingue naturalmente avere a che fare con persone di altri paesi che aiuta un casino poi ovviamente c'è nel senso aiutare nella burocrazia aiutare nel coso questi servizi sono noti soprattutto alle istituzioni che facciamo questi servizi tipo la questura eccetera eccetera e ciò garantisce anche nel mondo del lavoro un arricchimento del curriculum impressionante insomma perché se lei con il curriculum che hai fatto il volontario in SN o comunque che hai fatto il volontario in SN per esempio danno per scontato che tu hai un sacco di abilità che effettivamente non sono scontate che qualcuno abbia insomma come per esempio persino improvvisarsi e fare una grafica anche se qua possiamo parlare di livelli più più alti rispetto a improvvisarsi e fare una grafica oppure semplicemente sai organizzare eventi per organizzare comunque tipo di evento sai fare il gioco di squadra e quello te lo garantisce insomma poi ovviamente si vive in un ambiente internazionale anche qui all'Aquila si frequentano persone che vengono da tutto il mondo da tutta Europa e quindi è proprio questo è proprio questa la parte bella che appunto ci fa continuare questo servizio di volontariato poi aggiungo rispondo alla domanda di prima noi abbiamo una tessera siamo un'associazione e i nostri tesserati ossia tutti gli studenti Erasmus che vengono qui e anche i nostri volontari hanno diritto a vari sconti a vari che appunto abbiamo delle convenzioni sia locali ad esempio con i barbieri degli ristoranti centri estetici di tutto ma ce ne sono alcune molto importanti anche a livello internazionale ad esempio molto conosciuta è quella con Ryanair che dà la possibilità di non pagare il bagaglio da stiva per un certo numero di viaggi ad esempio 4 viaggi senza pagare il bagaglio da stiva ce ne sono varie comunque sì infatti molti fanno una tessera salute però comunque sì abbiamo stipulato varie convenzioni diciamo sì allora se poi voi ci date riferimenti anche del sito perché immagino che queste cose siano sulla vostra pagina web i recapiti sui social ripeto io appunto chiedo poi a Paolo di inserire il nostro tecnico informatico di inserire tutti questi riferimenti proprio nella caggia in Erasmus affinché siano visibili e tutto certo va bene vi ringraziamo molto grazie vogliamo chiamare i ragazzi che sono stati in Erasmus nel frattempo io volevo presentare i ragazzi che ci danno supporto del servizio civile che ci danno supporto non solo per le attività internazionali ma anche per altre attività sono di ausilio agli studenti se vi alzate un momento almeno vi riconoscono non per altro non so quanti di voi li conoscano sono dite i vostri nomi perché io prego Evelina Evelina Carlo Carlo Alessia li voi li conoscete? non c'è Susanna 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 vieni scusa Susanna che ci sta dando e loro sono i ragazzi del servizio civile sono qui in pianta stabile sono un punto di riferimento importante per tutti voi studenti a prescindere adesso da Erasmus ci tenevo a presentarli poi c'è Susanna che è la nostra come dire mascotte Erasmus viene Susanna lei è una studentessa che ha avuto la borsa 150 ore si occupa di Erasmus quindi nello specifico chi avesse delle domande da fare volesse un po' di supporto magari si sente più confortata dalla presenza di una studentessa che non dalle presenze ingombranti miei di Barbara può rivolgersi in prima istanza a lei tu hai un recapito le abbiamo dato il recapito istituzionale che è il tutor Erasmus che ce l'ha proprio in tutti e quindi vabbè niente potete contactare lì oppure vabbè vabbè in un anno sport ha le decisioni social che si chiederà poi tanto alla fine io chiederò a lei quello che non so quindi almeno sapete che le risposte sono giuste come sono chiare perché non me ne penso insomma e voi invece come avete la vostra istituzionale abbiamo la mem di studente mentore studente mentore quindi chiunque di voi avesse bisogno può diciamo avvalersi di questi ausili che quest'anno stiamo trovando veramente supportanti ok l'idea della direttrice che si è battuta come una pazza per avere i ragazzi che si lascia i suoi saluti ringraziamo la direttrice che oggi non c'è però insomma è con noi in spirito si sta dando veramente tanto da fare per questa accademia vero quindi insomma è vero allora ragazzi venite in forza venite tutti e due così vi sentite meno io non penso che ci sia venuto da dire perché comunque le domande a livello amministrativo eccetera mi sta Susanna si no voi riportate no forse è rinnovamente di quello che posso dire come stai entusiastico come siete stati a palestra riportate velocemente la vostra esperienza iniziamo iniziamo se jasmina che partireà prima di me sempre per la storia sì io ormai un anno fa primo semestre sono stata a malaga bellissima città non posso consigliarvi di partire per come hanno anche accennato le lettere che la coordinatrice che è una questione diciamo anche a livello umano a livello sicuramente economico che c'è di aiuto a livello chiaramente didattico perché comunque si fanno anche altri corsi diversi da quelli che facciamo noi e c'è modo poi di riuscire a inserire nel piano di studio anche se sono molto differenti io personalmente sono cresciuta tanto perché è stata la mia prima esperienza di vivere da sola e quindi mi sono buttata non sapevo niente di spagnolo o meglio insomma canzoni film però ho fatto un corso anche lì di sede che mi è stato offerto appunto dall'università di spagnolo e sono uscita ad avere il cibo e comunque è abbastanza alto quindi voglio dire torno che anche sono una lingua in più ti interrompo per dire questa cosa che è importante abbiamo interagito molto via mail per mettere appunto il piano degli studi perché poi si va con il piano degli studi diciamo preconfezionato ma che è previsionale e che va fatto prima per regolare comunitario per regolamento comunitario poi però si è un mese di tempo per mettere appunto quindi abbiamo avuto degli scambi di mail faccio questo che dite sì ok questo sì questo no abbiamo messo appunto il piano degli studi definitivo e una volta messo a punto il piano di studi definitivo lo studente riporta dei crediti e anche i voti i voti si è sostenuto il corso svolto come per con su erasmus chiedo tutta per l'interruzione ma volevo fare questa precisazione questa è una cosa che può fare un po' paura il fatto di dover gestire gli esami che siano concordanti però alla fine è una cosa che si vede man mano come ha detto la dottoressa di marco inizialmente si fa una prova però poi una volta arrivati di lì si parla anche con i professori di lì che sono super disponibili e pronto ad aiutarti a farvi capire a farvi trovare la soluzione migliore e sicuramente anche un consiglio di SN che non conoscevo e che mi ha aiutato tanto anche a livello di viaggi di sconti di ragnare eccetera e soprattutto per conoscere altre persone sia italiane che stavano lì in Erasmus perché poi manata è stata molto viva da questo punto di vista che persone appunto da tutte le parti dell'Europa che è un mondo di sanno lì quindi a proposito di SN volevo dire in conclusione una cosa poi mi è sfuggita è chiaro che i due ragazzi hanno fatto un tentativo di proselitismo perché loro sono alla ricerca di ex studenti Erasmus che siano interessati a portare a dare diciamo il loro apporto all'associazione con i valori aggiunti che hanno esposto quindi se qualcuno di voi fosse interessato non so devono essere per forza ex studenti Erasmus o non necessariamente però partire di Erasmus non sono mai capito ok quindi diciamo anche a prescindere dalla una esperienza Erasmus alle spalle si può dare una mano all'associazione un servizio di volontariato che però arricchisce molto da di nuovo mi vengo onorando per te è stata un'esperienza molto formativa ma se è stata un semestre o due allora se c'è una cosa che sicuramente voglio premiare dell'Erasmus o meno dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila è che io ho avuto l'opportunità di rinoscere altri studenti durante le mie esperienze a Valencia che erano studenti italiani quindi probabilmente le altre accademie quindi sono andato alla Belle Arti di Valencia quindi era una facoltà appunto delle belle arti come ha detto prima sia Patrizia che appunto non sono accademia ma sono una facoltà comunque ho incontrato altri studenti italiani due che dal punto di vista dell'assistenza almeno sia prima e post sono stati molto sfortunati perché per esempio hanno ricevuto la corsa di studio probabilmente quando il periodo Erasmus l'avevano già completato e per esempio quando dovevano scrivere che ne so perché vogliono cambiare l'esame perché magari hanno scoperto che quando avevano fatto l'accordo quell'esame lo rispettava proprio quello che cercavano eccetera l'assistenza da parte dell'ufficio Erasmus dove è arrivato loro non era più puntuale per dire quasi resistente quindi su questo voglio dire che la temera delle arti dell'arco Erasmus l'ufficio dell'assistenza è sempre stato con se io ho avuto dei problemi come vi risponderò subito e la vostra studia addirittura mi è arrivata subito dopo una settimana quindi l'assistenza è sempre sono stati dei grandi veramente ci prendiamo anche i problemi niente io sono partito che ho parlato di spagnolo non è che non è che lo parlassi molto bene anzi praticamente per niente sono stato fortunato perché comunque i miei docenti parlando italiano alcuni almeno forse perché anche gli facevo pietà mi hanno detto guarda per l'esame non ti preoccupare puoi parlare anche un italiano anzi a meno se parli italiano perché inglesi i ragazzi non lo capiscono quindi per quanto riguarda gli esami io l'ho fatto in italiano praticamente quindi se avete quella paura che i professori vi guardano di guarda questo non capisce l'italiano non capisce lo spagnolo cioè non che vi bacchettano vi assicuro che i professori spagnoli a meno a Valenza adesso non so per le altre cose la Cina non ce l'abbiamo le convenzioni con la Cina non lo so eh no siamo solo Europa abbiamo pure canzoni di Inghilterra mi voglio solo dire che non abbiate il cuore dei professori perché comunque i professori almeno a Valenza non sono stati molto disponibili ragazzi cioè veramente io ero andato all'altro e ho detto madonna non capisco una mazza perché comunque i valenziani quando parli parli forse anche più veloci degli italiani e quindi alla fine l'esame vabbè l'ho fatto in italiano già a meno l'esame ho fatto in italiano e non in inglese però ragazzi meno preoccupate sempre l'espagnolo lo imparate durante la vostra permanenza insomma poi una cosa sicuramente che mi ha spinto a partire almeno per Valenza se posso essere sincero non lo so per il corso di grafica che diciamo che era un po' insoddisfatto per quanto riguarda alcune materie pratiche allora mi sono detto magari se parto diciamo che potrei migliorare la mia esperienza la mia formazione perché comunque ho visto che effettivamente le differenze ha vissato almeno non so quanti ragazzi ci sono da scuola di grafica però quello che mi sono spinto a partire proprio perché mi sono detto era un po' soddisfatto per le quali materie pratiche allora soprattutto di grafica funzionale per la scuola di grafica infatti parlo la scuola di grafica magari scultura e altre cose funzionano molto bene però per le materie pratiche di grafica devo dire che là ragazzi ho trovato delle cose incredibili cioè nel senso tipo cinque aule tutte più piene di Mac un'aula enorme per lo studio di fotografia che ha detto che Valencia è un'eccellenza per la grafica è un'eccellenza per il nostro partner elettivo è sicuramente una cosa molto positiva che quando dovete sostenere degli esami che sono previsti da tutti i materiali che ne so che dovete comprare che ne so dei fogli per la stampa che ne so perché scelgo di fare incisione insomma quando c'è una spesa da affrontare per quanto riguarda i materiali ve le dà l'accademia perché là comunque è un campus dove ci ho trovato io a Marcia questo è un campus e quindi ci stanno i vari negozi ci sono ristoranti la mensa poi la mensa va bene è una gran figata perché comunque la mensa costa 3,80 ed è previsto un primo un secondo un dolce pure la bivita se vuoi se prima pure la bivita se vuole infatti a fine corso almeno come è venuto sempre successo che quando abbiamo finito è un primo che abbiamo fatto l'esame questa proletta ci ha fatto pure da bere al bar insomma dell'università ma è stata una bian figata e niente se avete paura poi per quanto riguarda le relazioni con i compagni lo stesso vi direi non abbiate paura perché almeno in Valenzia mi sono sembrati molto simpatici anzi almeno quando vado in italiano fanno più figata c'è un italiano quindi non abbiate paura gli spagnoli in italiano valenziano e San Malaga sono stati veramente dispendenti gentilissimi ma in generale tutta la spagna anche a Malaga mi raccontò una ragazza che è nata prima di che avevano organizzato addirittura un giorno una gita nel deserto possibile una gita mi racconta mi racconti disse insomma al di là dell'avventimento didattico diciamo a livello culturale di impatto con una cultura diverso per me è stato molto formativo per cui a Rasmus è anche questo sì è studio perché quando partite io vi dico sempre ragazzi se non riportate i crediti e i voti restituite anche la borsa quindi attenzione se non riportate proprio nulla altrimenti vabbè insomma poi si dice se ne può ragionare però voglio dire Erasmus è anche interazione con culture diverse con diciamo una lingua diversa con modi di vivere diversi io quando sono andata a Valencia la prima volta mi sono stupita perché ho visto le persone vabbè era in occasione di quella della festa della Spaglias che è bellissima ma la gente mangiava suca per terra a me era sembrata una cosa così però poi effettivamente cioè la vivi con uno spirito di come dire calarsi in una mentalità diversa in una cultura diversa e viaggiare fondamentalmente anche questo esatto quindi non è solo formazione chiaramente ci saranno anche le feste perché comunque non è che andate in mezzo dai vecchi andate in mezzo in un ambiente ad un'ambiente ad un'ossi quotare con un'ottima di studenti e che comunque vi coinvolgono a un certo punto vi dicono se volete tenerevi con loro a uscire e cose così sono bastanti riuscire a rarmi infatti è sia formazione ma anche divertimento ovviamente uno va all'arca se devo studiare devo fare gli esami cioè con tranquillità non è preoccupati è chiaro che vi siete preoccupati però senza l'ansia senza l'ansia di precipitarvi perché insomma a seconda del video che sceglievi non ce l'avete ma vi è sicuro che in un periodo comunque che c'è anche il video che ci siamo abbastati a usare le due cose e tutto va l'isceso per il resto per il resto veramente ci tengo due anni d'intrazzare l'ufficio da un'ottima delle belle artiglie dell'Aquila perché veramente sono sempre stati puntuali rispondermi per qualsiasi dubbio o problema e invece l'Accademia di Turino è una di Bologna no cos'era o di Turino o di Turino o di Turino e un'altra Accademia del Nord che ci prendiamo questo complimento molto volentissimo infatti io l'ho detto sarà una delle unie cose che ho detto all'inizio e sono contenta che Valentino ce lo possa testimoniare ma è strana sta cosa perché l'Accademia del Televolo è molto piccola e invece con le di Turino per l'altra che non ricordo che era sono abbastanza grandi ma è proprio per quello è proprio per quello che non dà l'importanza di questo poveraccio che infatti veramente no poi in genere io con l'esperienza per esempio a Firenze ho provato ma a Firenze c'è una signora che si occupa dell'Erasmus che non è né una docente dell'Accademia né un'amministrativa dell'Accademia è una signora esterna che non so a quale titolo va lì un giorno a settimana sono rimasto malissimo per questa cosa chiaramente il fatto che sia un'Accademia piccola ci aiuta c'è una studentessa che venne dalla Francia molti anni fa tale mi simpaticissima che continuava a dirgli io sono felicissima di essere venuta all'Aquila che è una città così piccola ma dice i miei colleghi che sono andati all'Accademia di Roma stanno disastrati perché è ovvio diciamo noi le dimensioni ci consentono di gestire di gestirvi vi conosciamo praticamente uno per uno forse funziona meglio perché è una realtà piccola questa magari si si poi insomma effettivamente l'ufficio è collaborato cioè sono tantissimi anni perché io sono arrivata qua nel 2006 e già c'era l'autorezza di Marco che si fumava di erasco che questo quando è partito almeno Danilo l'Accademia di Torino è partito che non ha chiamato neanche un accordo per quanto riguarda il piano di studio con quell'età che voleva sostenere la Valencia per farsi conoscere una volta ritornato a Torino quindi mi sono detto ma scusa tu sei un'autore non sai neanche cosa di seguire no? però l'hanno fatto partire me l'ha dato né la bossa studio né gli hanno fatto firmare un accordo di mobilità cioè l'accordo di mobilità l'ha firmato però un piano l'ha rimanuto l'ha rimanuto quello cioè l'ha fatto lo volevo fare nei corsi quando poi l'ha fatto qui là mi hanno anche firmato le carte mi sa come ritornato quello che faccio va bene ci prendiamo un corso complitato con un piede vi ringraziamo per l'apporto grazie grazie qualche rasmus in coming ci vuole parlare del proprio istituto chi se la sente Corg ci sei ancora? ci vuoi parlare della tua istituzione? no? no Corg tu sei di Madrid vero? voi siete di Madrid si vero dai vieni a dirci due parole due parole che cosa si fa nella tua accademia la presenti ai nostri ragazzi se mai volessero venire cioè se volete venire nella mia università potete trovare questo due parole diciamo in spagnolo dai se parli lentamente capiamo ah no però diciamo in italiano e così capire 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 tutti no noi siamo relazionati con la facoltà di ciencias sociali eccetera però sì abbiamo per esempio bravi professori da pittura e anche disegno eccetera e ci sono delle non si dice delle classe dove tu possono disegnare a qualcuno in vivo eccetera disegno del dal vero come si si e dopo si lavora molto sulle nuove tecnologie città eccetera e photoshop 3d ma tante cose come questo e il problema penso che ci sono due un'area collaborata che si chiama non è proprio madrid madrid e sta 50 minuti dal centro e dopo c'è un'altra che sta in alapuè che è una piccola città molto bella dove il re di spagna hanno vivido molto tempo c'è un bello palazzo eccetera tra l'ISI c'è una più cultura no? movimento degli alunni eccetera e dopo c'è un'altra che è la Complutense però quella non è la nostra è un'altra però le tre università sono buone anche madrid offerti offerti molti attività sculturali e puoi fare di tutto lo che ti piace abbiamo dei grandi musei e ci avete il museo più bello d'Europa il prato che si no però è un'altra con molte cose e se volete andare lì io dico sì grazie noi siamo gemellati anche con la Complutense e io se qualcuno dovesse volerlo visionare ho un elenco di corsi che sono diciamo quelli prioritariamente svolti nelle istituzioni con le quali siamo gemellate cioè ho fatto un elenco delle istituzioni gemellate e ho scritto di fianco i corsi che prioritariamente svolgono è una cosa che avevo fatto per me a titolo di appunto però l'abbiamo trasposta in Word quindi se a qualcuno dovesse essere utile tanto per capire cosa si faccia in quella istituzione piuttosto che nell'altra è qui disponibile lo posso consegnare così come abbiamo anche l'elenco delle organizzazioni delle aziende presso le quali potete andare a svolgere un'attività di trainership quelle già collaudate perché ribadiamo che altre le potete diciamo trovare per conto vostro voi volete raccontarci qualcosa sulla vostra università anche in inglese ok cosa pensi cosa parla come parla la nostra università ok sorry per la inglese siamo da l'Università dell'Università di Eucharistia e ci sono molto diversi da qui perchè abbiamo studiato in peinti e noi facciamo solo peinti la maggior parte della scuola e veniamo qui... La scuola in vostra università è peinti la scuola e le workshop hours sono spedati a fare la scuola e studiare la storia di arte e l'estetica, la filosofia di arte e altre cose ma è stato un piacere non solo fare la scuola ma anche la scuola e l'arte della fumetto è molto bello e divertente e la scuola e la scuola e la scuola si ci sono solo in un giorno ok 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 grazie 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 Being here has offered us opportunities that we wouldn't have had back home, but it also made me appreciate what I have back home as well, so it's nice to experiment those. Ok, thank you. Allora, adesso, chi vuole chiedere qualcosa, avete delle informazioni, dei chiarimenti da vedere? Non vi vergognate, non mangiamo nessuno. Prego, prego, prego. Allora, un chiarimento riguardo al piano di studi, voglio dire, laddove gli esami non coincidono con il piano di studi italiano, mi sembra di capire che ci sono delle sostituzioni, se capisco bene, oppure di dittorio che funzionano, cioè dove lì ci sono degli esami diversi. Poi, vi dico tutto insieme, per quanto riguarda finanziamento per l'informazione professionale, non c'è una restituzione, a fondo del tutto, da dove vi parla di finanziamento. E poi, se posso, posso dare un contributo personale, ovviamente per motivi enegrafici, non ho fatto le animus. Non c'è limite, noi abbiamo ricevuto qualche anno fa uno studente da Leeds che aveva 74 anni e che si era integrato nella nostra accademia in un modo talmente simpatico che ha continuato a scriversi con me e con gli altri studenti per anni e anni. Quindi, mi sento di abbattere questo pregiudizio. Ok, la ringrazio e volevo soltanto aggiungere che per i ragazzi voglio dare il mio contributo personale laddove vi posso assicurare che è un'esperienza meravigliosa o non avendo fatto le animus, perché da giovane ai miei tempi ho viaggiato molto con delle corse di studio, quindi in qualche modo simile come esperienza, che mi hanno portato in vari paesi del mondo. Sono stato persone in Giappone con una corsa di studio dell'Istituto Tornaccio Estero a fine agli studi economici e politici che avevo fatto e si torna davvero a rettivi. Quindi, lo dico per i ragazzi, più per me che ho fatto la mia esperienza, però ancora oggi ho l'entusiasmo per far dire. Quindi, restano le due domande che ho fatto prima. Grazie. La ringraziamo molto per questo apporto, per questa testimonianza positiva. Io mi sento molto di caldeggiare invece se lei se la sentisse una candidatura perché Erasmus è anche questo, superare barriere di qualsiasi tipo, fino a piano grafiche. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè quella relativa al piano degli studi, abbiamo in passato rappresentato molte volte all'Agenzia Nazionale che il riconoscimento dei corsi deve essere necessariamente molto elastico perché è inevitabile che uno studente che si sposta da un'istituzione di una nazione ad altre istituzioni di altra nazione non trovi dei corrispettivi delle corrispondenze. È inevitabile questo. E siamo riusciti ad ottenere che si possa procedere con il riconoscimento del criterio tra virgolette a pacchetto. A pacchetto che cosa significa? Significa che non ci deve essere una corrispondenza presso che pedisse qua fra il corso che avrebbe fatto qui lo studente e il corso che invece va a svolgere nell'istituto ospitante che può stare in Francia piuttosto che in Belgio, piuttosto che in Germania, in Spagna. Quindi che cosa accade? Noi, diciamo, prima che lo studente parte predisponiamo quello che si chiama il learning agreement tradotto piano degli studi, un accordo sul piano degli studi, che è considerato un accordo tripartito. Tripartito perché lo firma lo studente, lo firma l'istituto, diciamo, mi viene da dire il home institution, l'istituto di appartenenza e l'istituto ospitante. E quella è una proposta di piano che va fatta, uno, perché lo prevedono i regolamenti comunitari, due, perché l'istituzione ospitante deve essere messa in condizioni di capire qual è l'ambito di interesse di quello studente. Io lo pretendo quando gli studenti vengono qui perché devo poter garantire allo studente in coming dei corsi che a lui poi verranno riconosciuti e soprattutto dei corsi che noi abbiamo nel nostro catalogo. non potremmo, diciamo, dire sì se ci fosse un corso non attivo. Poi però che cosa accade? Accade che lo studente intraprende la mobilità e per regolamento comunitario c'è un mese di tempo per potersi guardare intorno. Entro quel mese lo studente può modificare parzialmente il piano, lo può stravolgere totalmente, cioè modificarlo anche interamente, cercando di selezionare lì dove è arrivato i corsi a lui più congeniali. e quelli che in qualche modo assomiglino di più a quelli che avrebbe svolto qui, ma non ci deve essere una corrispondenza piedisse o attassativa. Prima di partire si fa anche un'ipotesi di riconoscimento, cioè lo studente parte e dice voglio il corso di corsi A, B, C, D, E, quando ritorno qui propongo il riconoscimento dei corsi X, Y, Z, W, eccetera. Quando lo studente poi in corsa decide di cambiare ci scriviamo, come dicevo appunto ai ragazzi che sono stati fuori l'anno scorso, lo studente ci dice io vorrei sostituire A con B, D con T, noi, io e la professoressa Drudi, io sono un'amministrativa e lo faccio per la parte amministrativa, lei per la parte didattica. Essendo una docente ci consultiamo e diciamo ok, le possiamo accettare queste variazioni. Le variazioni vengono di nuovo formalizzate in un learning agreement, questa volta nella parte during the mobility, che è quella diciamo definitiva, e lo studente procede. Quando poi lo studente ottiene crediti e voti, si compila la terza parte del learning, che è la parte afford mobility, lì vengono riportati i risultati conseguiti. Quando lo studente torna concordiamo un riconoscimento, lo concordiamo perché? Perché i corsi riconosciuti vanno calati nel piano degli studi di quello studente, quindi non li possiamo prendere a caso, dobbiamo prendere i corsi che mancano, cioè che quello studente deve completare per chiudere il suo piano. Si fa anche un riconoscimento secondo una scala di comparazione e di valutazione del voto. Io preparo un provvedimento, lo studente lascia il proprio libretto, glieli caliamo sul libretto e nel database della segreteria e con gli esami è come se li avesse fatti. Diciamo che giustamente la dottoressa Di Marco ne ha fatto un quadro molto preciso, nella sostanza poi è chiaro che si cerca di trovare degli accordi, perché è ovvio che non ci saranno mai degli insegnamenti identici tra le varie istituzioni. Quindi insomma si va un pochino a buon senso e si cerca di integrare, appunto come diceva la dottoressa, anche cercando di capire qual è il tipo di formazione e di indirizzo che poi lo studente sta effettuando. Per dire noi abbiamo questa ragazza, quella che diceva Louis Spartin, che non c'è, che è venuta qui dalla Turchia chiedendo di fare tutti gli esami teorici e questo è un po' un problema per noi, perché ovviamente alcuni professori di materie teoriche non parlano inglese, quindi diciamo c'è stato, e lì c'è stato tutto un po' un aggiustamento con alcune materie, con alcuni professori che sono materie analoge, però sappiamo che il professore, il docente parla inglese, quindi può essere, la studentessa può essere eseguita, quindi diciamo che assolutamente ci sono delle possibilità di aggiustamento. Volevo riportare anche un esempio, molti anni fa partì uno studente ed andò di pari ad Altea, questo studente trovò un corso che gli risultava particolarmente utile, gli sembrò accattivante perché lui voleva fare come professione il decoratore di vetri, di vetrate, e lì trovò appunto un corso di questo tipo, era proprio, non ricordo, insomma riguardava il vetro, e la ceramica scelse due corsi che sembrava gli potessero appunto essere utili per la professione, qui non avevamo delle corrispondenze, però li abbiamo inseriti nella macro area di decorazione, perché alla fine di decorazione si tratta, quindi abbiamo cercato di trovare delle corrispondenze, però gli abbiamo detto assolutamente sì, fai quello che ti servirà per il tuo futuro lavorativo, voglio dire non siamo stati liottusamenti a dire no, troviamo la corrispondenza, ok, tu che vuoi fare, il decoratore di vetri, di vetrate, quello ti può essere utile, segui quel corso, troviamo il modo di convertirlo, questo diciamo mi volevo esprimere con un esempio. Poi la sua seconda domanda riguardava la, i finanziamenti sono quelli che trova nel bando, per la col 2023 non so se cambieranno, noi ovviamente ci stiamo orientando su quelli della col precedente, uno perché la col precedente è ancora attiva, due perché l'unico parametro di riferimento che abbiamo è quello. Quindi c'è la borsa comunitaria che vi abbiamo fatto vedere prima, non so se Paolo ci può ridare la videata sui contributi comunitari. Poi di solito noi diamo un contributo accademico, cioè istituzionale, che oscilla tra i 200 e i 250 euro. Avevamo fissato fino a quest'anno 250 per la mobilità per studio e 200 per la mobilità per trainership. La differenza si basa, si fonda sul fatto che i finanziamenti comunitari per il trainership sono più alti. Non ho mai capito perché è una disposizione comunitaria, quindi con questi 50 euro in più intendevamo andare un po' a controbilanciare questa differenza che c'era. Poi c'è una terza fonte di finanziamento che sono i fondi MEF, ex legge 183 del 1987 mi pare, però quelli arrivano successivamente e diciamo recentemente il consiglio di amministrazione che un po' dice come utilizzarli, però potrebbe essere una terza fonte di finanziamento. Poi c'è anche, stiamo ottenendo anno per anno un cofinanziamento dall'azienda, sull'azienda per il diritto agli studi universitari, che è correlato alla mobilità, però quella la eroga l'azienda sulla base di parametri di reddito e di merito che non fissiamo noi. Però io la espongo perché come possibilità teorica se uno rientra nei parametri di merito e di reddito sanciti, stabiliti di fatto non esiste. Ovviamente certo è appunto perduto, a meno che uno studente non parta e torna senza aver fatto gli esami agli obiettivi, cioè la comunità europea non dà questi soldi perché lo studente vada a divertirsi, li dà perché riporti dei risultati, poi se si diverte anche perché no. Però sì, deve essere riportato insomma un minimo di risultati, ma guardi, li assicuro che non è mai capitato. Non è mai successo. Avete altre domande, curiosità o non lo so? Vogliono chiedere qualcosa? No, 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 siamo molto interessate, ma abbiamo sentito bene, quindi... Venite in ufficio? Assolutamente sì, assolutamente sì. Cosa vi interesserete, più studi o tirocinio? Facendo il primo anno del premio e stanno inscritta con riserva, come avendo la tesi a febbraio ragionerei nell'ottica del prossimo anno e magari... Ho dimenticato di dire, questa è una cosa interessante, che l'esperienza di tirocinio o Erasmus si può fare anche post diploma, cioè una volta diplomatici, purché si rispettino due condizioni fondamentali e sono fondamentali perché la Commissione europea li pone come requisiti imprescindibili, cioè si deve essere candidati e selezionati prima del diploma, cioè quando si è ancora studenti e il tirocinio deve dispiegarsi, quindi concludersi entro i 12 mesi dalla data del diploma. Queste sono condizioni imprescindibili. Non hai niente di... No, però è importante sapere perché molti sono interessati al tirocinio post diploma, però mi fanno la domanda quando si sono già diplomati, a quel punto anzi poco non fare niente. Non ricorrono i requisiti, diciamo i due requisiti fondamentali. Prego, prego. 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 che lo studente che va all'estero deve essere anche coperto da un'assicurazione e se non è in regola con le tasse l'assicurazione non si attiva, cioè io non manderei mai fuori uno studente che non fosse in regola con l'iscrizione perché non mi sentirei tranquilla. Pagata qui l'iscrizione lo studente è apposo, nel senso che nell'istituto di destinazione non deve più pagare nulla, a meno che non si tratti di contributi per fotocopie, per servizi particolari, ma in termini di tasse no. C'è anche la possibilità per lo studente di andare fuori per fare studi di tesi, però è una cosa che io non me la sento di consigliare tanto, ovvero la consiglio se lo studente oltre a fare ricerca per la tesi prescegli anche uno o due corsi da seguire e spiego perché. In passato abbiamo mandato lo studente a fare ricerca tesi in una istituzione del centro nord Europa, ma il docente che è stato assegnato come docente tutor ha cominciato un po' a pontificare perché la fa in questo modo piuttosto che quell'altro, io farei, userei questa bibliografia piuttosto che l'altra, insomma si è creata una specie di sperequazione tra quello che diceva il, come si chiama qui il tutor, il relatore, il relatore qui in accademia e quello che proponeva il tutor lì. La conseguenza quale può essere? Che se il tutor non, diciamo, si trova d'accordo con quello che propone lo studente non gli assegna i crediti e questo noi lo vogliamo scongiurare. Allora io mi sono inventata questo spediente, quando uno studente è interessato a fare ricerca per la tesi gli dico sempre prescegli uno o due corsi che assomiglino a quell'argomento di modo che almeno ti assegnano i crediti per il corso. Se invece la sua domanda era riferita alle tasse per la tesi, tutto ciò che pertiene alle tasse poi viene gestito dal nostro istituto, quindi diciamo l'istituto ospitante non può chiedere nulla che non siano piccoli contributi per servizi o altro. Un accesso in biblioteca, che so, piuttosto che la mensa, piuttosto che estrarre fotocopie, ma nulla di più. Allora noi qui abbiamo messo anche dei gadget che sono intesi a promuovere le attività Erasmus. Tengo a precisare e a sottolineare che questi, diciamo, gadget, così come il catering che ci sarà, poi scenderemo e se vi farà piacere mangeremo qualcosa insieme, vengono sostenuti con i fondi comunitari, cioè con i fondi che la comunità europea mette a disposizione per promuovere e sponsorizzare le attività Erasmus. Dico questo perché una volta un studente mi ha chiesto ma queste cose le fate con i soldi delle nostre tasse? No, assolutamente. Ci tengo a precisarlo, sono fondi che la Commissione europea mette a disposizione proprio per promuovere le attività Erasmus. E poi ricordiamo anche, ringraziamo il professor Bellucci, che ha messo al lavoro dei suoi studenti che hanno poi prodotto alcuni disegni e che abbiamo utilizzato appunto per le borse, per le borracce, insomma, per varie cose. Sì, sì, queste sono vostre. Abbiamo inteso proprio per... il professore è stato così generoso, diciamo, da far fare dei progetti ai suoi studenti, glieli avevamo chiesti noi, e ce li hanno poi concessi. Noi abbiamo voluto, come dire, ringraziare gli studenti, cioè il professore lo ringraziamo più pubblicamente. Gli studenti li abbiamo voluti un po' premiare così per il lavoro svolto, riportando i loro nomi sul logo, non so come si possa chiamare. E quindi queste le potete prendere. Questo vuol dire che quando i professori vi chiedono di fare qualcosa, fatelo, perché poi dopo c'è un premio, non saranno i crediti, però insomma... Potrebbero anche essere i crediti. Perché molti colleghi docenti vengono e dicono sì, abbiamo chiesto, non c'hanno voglia, gli studenti non portano le cose, sono pigri, dicono sì, poi non portano. Quindi invece lavorate, lavorate. Abbiamo realizzato delle corsi, abbiamo realizzato delle t-shirt, che potete prendere. Forse anche poi per i studenti, per le matricole, insomma, quindi... Questi altri sono le gadget un po' più datati, ma i recenti sono quelli realizzati con l'apporto del professor Bellucci. Poi abbiamo pensato di fare una cosa simpatica, Susanna, dove ti sei nascosta, sulla lavagna ha riportato una specie di griglia, vorremmo, come dire, avere una specie di griglia di gradimento per quanto riguarda i gadget, perché in futuro potremmo realizzare quelli che a voi risultano più congeniali, perché noi li facciamo secondo la nostra idea, ma magari poi a voi o non piacciono o non servono. Quindi se volete fare questa cosa simpatica, potete andare a mettere delle crocette su quello che preferite, così poi noi abbiamo un'idea di quello che dobbiamo far realizzare. Se vi interessano le maglie, le t-shirt, che sono connotative, perché poi ci abbiamo messo anche il logo dell'accademia e il logo del proficerato, potete anche al limite riportare le vostre taglie, perché ne abbiamo fatte di taglie diverse, ma ci siamo accorti che sono un po' abbondanti, sono più come taglie sovradimensionate, vedo che siete tutti più o meno magroliti, quindi... Lei può prendere una L barra di Selle, c'è anche quella... Sì, perché in passato avevamo dei docenti abbastanza corpulenti, adesso ci sono tutti tutti magri, più madri, quindi insomma dobbiamo ritararci per quanto riguarda le taglie e quindi ci farebbe piacere se voi esprimeste un gradimento per i futuri obiettivi e poi come dice la professoressa Druni, insomma se i docenti vi coinvolgono cercate di dare il vostro... a noi piacerebbe molto che voi proponeste progettualmente, anche qui non li abbiamo riportati, però sono stati forniti anche degli hashtag molto interessanti, ed è bello poi quando noi andiamo all'estero e portiamo queste... Io sono andata sia in Francia sia in Spagna, adesso a settembre due settimane fa, e ho portato le nostre borse, erano tutti entusiasti, ma che belle, ma che belle, perché in genere nelle altre istituzioni, perché poi ci sono questi scambi ovviamente, sono delle cose un po' generiche, cioè fanno dei pattern così, o il simbolo dell'accademia, il lochetto dell'accademia o la scritta, accademia di belle arte, così non hanno, diciamo, è una cosa abbastanza particolare quella di avere i disegni degli studenti, quindi sono state apprezzatissime soprattutto dal direttore di questa scuola di Anzì, che era entusiasta di tanta maniera di con le mani, si è fatto raccontare tutto l'altro, c'era il seno Vito, la perdonanza, era impazzito, quindi... Sì, tra l'altro il lavoro a me... Ha successo, ecco. A me personalmente piace molto, perché noterete che sono tutti simboli connotativi della nostra città, cioè abbiamo voluto legare ad Erasmus, che è questa attività internazionale, i simboli della nostra città, come dire che portiamo all'estero, esportiamo quelli che sono i nostri tratti connotativi, perché questo rappresenta la Basilica di Pollemaggio, c'è la Fontana luminosa, il castello, insomma... Ecco, abbiamo pensato, abbiamo pensato, ci ha pensato il professore. Abbiamo anche il mammut, le borracce, abbiamo anche il borracce, carinissima. Sì, perché abbiamo fatto le borracce in realtà per le matricole, quindi era più... non tanto Erasmus, ma poi rifaremo, insomma, anche per Erasmus. Approfittiamo per dire questo, quest'anno per la prima volta si è pensato, la direttrice in particolare ha pensato, di realizzare dei gadget per le matricole, un po' come si fa nelle grandi università. Gli studenti degli anni successivi, non so se se la siano presa male, qualcuno si è presa male. Ci hanno detto, ci hanno riferito che gli studenti degli anni successivi se la sono un po' presa male. Allora stavamo pensando adesso di replicare, però voglio dire da un punto che bisogna sempre cominciare quando si fa una cosa, poi è chiaro che ci si espone sempre a qualche critica. per cui anche per questo, diciamo, il gradimento sui gadget ci può essere utile e poi, insomma, compenseremo in qualche modo anche per gli altri studenti che ci si guardano. Assolutamente. Grazie. Allora, noi abbiamo ancora un quarto d'ora. Grazie. 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 Se passate qui alla lavagna e ci mettete la velocità, possiamo dire. Prendete i ganchi. Quello che so. Posso fare una domanda? Sì. Sì. Avendo fatto nel primo anno l'era spessa. Sì. 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 Sì.